Una bella iniziativa a favore del Tevenin, la Conad ha donato alcuni gelati che sono una bella opportunità proprio per creare condivisione tra i ragazzi che sono presenti qui. Esattamente, noi abbiamo organizzato per il secondo anno questa iniziativa come sezione retina dell'Ordine di Malta perché abbiamo voluto continuare in un servizio di aiuto al Tevenin, di aiuto ai bambini, alle mamme, alle famiglie in difficoltà, proprio creando dei momenti che creassero anche un valore socio-psicologico. Nel senso che il gelato è una cosa che si sa è l'ideale per i bambini adolescenti, in genere è il primo alimento che il bambino da sette mesi mangia da solo. Però oltre al valore nutrizionale, ottima idea per la merenda, c'è la possibilità di aggregarsi. Noi abbiamo voluto creare per i bambini del Tevenin un momento, il momento della merenda, in cui si potessero ritrovare e socializzare. Oggi, dopo il Covid, purtroppo, i bambini adolescenti si sono abituati a usare ancora di più il smartphone PC, cioè a vivere sempre attraverso la rete, a colloquiare con i coetanei. Allora noi abbiamo voluto creare questo momento, al momento della merenda, con questo punto piacevole del gelato, in modo da stimolare i contatti umani, lasciare questi rapporti virtuali e riprendere i rapporti fra persone, perché soprattutto nel bambino e nell'adolescente i rapporti fra coetanei sono importanti. Abbiamo chiesto anche alla CONAD, che ringrazio perché è stata per due anni molto generosa, un assortimento di gelati, in maniera che anche i bambini del Tevenin possano avere non solo il piacere di incontrarci, non solo il piacere del gelato, ma anche di scegliere un tipo anziché un altro, cioè un modo per esaltare la persona e l'individualità del singolo bambino e del singolo adolescente. Ecco, professore, ricordiamo anche, cogliamo l'occasione per ricordare quella che è l'importanza in città di questo istituto del Tevenin. È una cosa bellissima. Innanzitutto io conosco tutta la realtà, diciamo, italiana e penso che il Tevenin sia una delle più alte espressioni dell'assistenza all'infanzia, fino a, da parte di una suora, a perdere la vita per difendere le orfane. E quello che è bello e rende ancora più importante questa istituzione, che è un'istituzione in cui la componente religiosa, la componente laica, la componente privata, la componente pubblica si riuniscono tutti a favore del Tevenin. Cioè, quando noi si va, per esempio, a organizzare delle scene di beneficenza, delle iniziative, abbiamo bisogno di certe cose, e alla fine la gente ce lo regala. Si sa che per il Tevenin ce lo regala. Ecco, per cui qualche volta, per evitare l'imbarazzo, si compra direttamente, si paga noi. Ma veramente è il cuore della città. In questa istituzione viene fuori proprio il buono delle persone.